E' rivolto prevalentemente alle scuole il progetto Democrazia Partecipata, approvato con atto di indirizzo dalla giunta del sindaco Giovanni Leonardi a Mascaluccia nei giorni scorsi. Infatti 15.000 euro sono stati stanziati per l'attività di doposcuola rivolta ai ragazzi dei tre istituti comprensivi cittadini. Iniziativa che l'amministrazione intende rivolgere soprattutto alle famiglie in difficoltà. L'iniziativa potrebbe partire già nelle prossime settimane in bilancio per tutti i progetti concernenti la democrazia partecipata previsti complessivamente 30.000 euro.